La Biblioteca Universitaria aderisce alle giornate europee del patrimonio, che sono un'importante iniziativa a livello europeo che quest'anno si occupa del tema cultura e natura. Viene proposta la mostra Naturalia e Artificialia e una serie di conferenze dedicate ad approfondimenti sullo stesso tema cultura e natura. Io sarò presente il 23 di settembre e invito tutti a partecipare. Grazie.